Come creare un gradiente trasparente in GIMP Bentornati ragazzi nel canale Veroeroe Academy, io sono Alex In video di oggi torneremo a parlare ancora di GIMP Voglio farvi vedere una funzione particolare, molto veloce Vi ho già fatto vedere questa tecnica anche altre volte Ma non ho mai fatto un video preciso su questa tecnica Che è molto semplice, ma molto molto di effetto E quindi che dovete assolutamente padroneggiare Perché riuscirete a fare veramente in poco tempo, in un attimo, dei mesh di foto interessantissime Allora, cosa vuol dire creare un gradiente trasparente? Vuol dire creare una sorta di sfumatura per rendere trasparente parte della foto E di conseguenza andarci a mettere sotto un'altra foto E quindi creare dei mesh, delle unioni, dei miscugli Allora, io ho scaricato queste due foto da Pixabay Quindi foto di questa casa E foto di questa notte, di questa montagna Allora, questa la voglio andare a riflettere Quindi vado sullo strumento rifletti Che è questo qua, vedete? Rifletti orizzontalmente Clicco sulla foto e vedete che me l'ha perfettamente Riflessa orizzontalmente Questo perché? Perché voglio andare a fare una cosa di questo genere Adesso vi farò vedere Allora, come prima cosa andiamo a duplicare il livello iniziale La nostra immagine iniziale E sempre, mi raccomando, di fare questa cosa rendendola invisibile Perché? Perché andiamo a fare delle modifiche non distruttive Qualsiasi cosa noi andiamo a fare su questo livello qua Facendo così o cancellando questo Ci ritroviamo la nostra immagine originale Quindi perfettamente intonsa Allora, io ragazzi ovviamente do scontate alcune cose Pur essendo questo un video abbastanza basilare Però siamo a più di 150 video solamente inerenti a Gimp nel canale Quindi veramente se volete imparare il foto editing professionale open source gratuito Siete nel canale giusto Quindi iscrivetemi Allora, andiamo a fare una cosa di questo genere Allora, strumento gradiente Lo strumento gradiente Ho fatto un video, vi lascio il link qui in alto a destra Nella quale vi spiego esattamente come funziona il concetto di gradiente Brevemente è ovviamente Vedete, riempie l'aria e è selezionato con un gradiente di colore Il gradiente di colore è una gradazione, un passaggio di colore Una sfumatura da un colore ad un altro O anche da un colore ad una trasparenza Dipende come lo impostate Quindi è fondamentalmente una sfumatura Che va per gradi Allora, strumento gradiente Si apre il pannello delle opzioni dello strumento Quello che vogliamo fare noi è andare a prendere Ovviamente se avete degli altri colori Tipo, non so, il giallo ad esempio E il bianco Cliccate su questo Vedete, su questi due quadratini Imposti ai colori di sfondo E di primo piano, di default Che sono il nero di primo piano e il bianco di sfondo E in questo caso andiamo a selezionare Qui vedete, nel pannello dei gradienti Da primo piano a sfondo RGB Quindi ci farà un dal nero a bianco E con taglio lineare Taglio lineare vuol dire che Segue questa sfumatura una linea retta Se facessimo taglio radiale Ad esempio sarebbe dal centro Si irradierebbe come un cerchio Quindi sfumatura, taglio lineare Cosa dobbiamo fare per rendere Quindi questa sfumatura Una sfumatura di trasparenza Dobbiamo andare a fare il tasto destro Qui Andiamo intanto ad aggiungere Anzi no, non lo aggiungiamo neanche Il canale alfa perché tanto non serve Andiamo a fare un tasto destro E andiamo a fare un Aggiungi maschera di livello Bianco opacità completa La maschera di livello ragazzi È un concetto basilare del photo editing Anche qui vi lascio un link in alto destra Nella quale vi spiego in maniera Molto, molto basilare Ma molto semplice Ed è un argomento fondamentalissimo Del photo editing Un video in cui vi spiega Molto semplicemente le maschere di livello Quindi opacità completa Significa, vedete Se io faccio mostra maschera Significa che abbiamo una maschera bianca E cioè applicata al nostro livello Togliamo il mostra maschera Ci indica la visibilità completa Ok Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere la nostra immagine Questa E la andiamo Anzi no, lo facciamo dopo Cosa facciamo? Andiamo ad applicare il nostro gradiente Andiamo ad applicare il nostro gradiente Quindi prendiamo un punto qui Che sarà il capo iniziale E un capo finale Allora in realtà Il capo iniziale è questo Che io sto muovendo Vedete quindi qui ci sarà il nero E qui vedete Se io clicco qui Sarà il capo finale Quindi io prendo Clicco su un punto E tiro il capo iniziale Che in questo caso sarà il nero E a me serve esattamente il nero Poi ovviamente lo posso spostare Posso anche fare Cliccando CTRL Vedete mi sposto di 15 gradi E vedete se io tiro Vado esattamente qua Lo metto più o meno qui Allora io ho un capo Faccio uno zoom Ho un capo intermedio Vedete che è questo Spostando questo capo intermedio Io cosa faccio? Vedete che vado a spostare la sfumatura Cioè sposto l'intensità della sfumatura Verso il capo iniziale O verso il capo finale Vedete Posso addirittura Con Utilizzando alt Vado a prendere tutta la retta Vedete vado a spostare tutta la retta insieme O se clicco CTRL Ad esempio qui Io vado ad aggiungere un capo Intermedio Vedete E un capo intermedio ancora Mi serve per andare sempre a modificare Vedete le Le parti intermedie del gradiente Quindi direi che in questo caso Lo lascio più o meno così E direi che vedete Qui mi ha Mi ha Posto Fatto questa trasparenza Vedete che qui mi ha cancellato Esattamente La foto Mi ha cancellato esattamente Il livello La foto L'immagine E potenzialmente Mi farà vedere Quella sotto Quindi se io Rendo visibile Quella sotto Ovviamente vedete che ho L'immagine iniziale Mi sposto Torno sullo strumento Nuovi In maniera tale da togliere E applicare il gradiente E fatto questo Vado a fare Un tasto destro Faccio Mostra maschera Perché vedete Come agisce la maschera La maschera agisce Con bianco Mi fa vedere l'immagine Qui me la Piano piano Me la sfuma E qui me la toglie Tolgo la visibilità Della maschera E fatto questo Cosa faccio Prendo la mia Immagine Questa La vado a prendere La vado a mettere Esattamente qui Cioè sotto La mia immagine Iniziale La seleziono Sposto su Ok La seleziona Vedete È selezionata Questo livello E la vado a spostare La vado a spostare Come più mi piace La posso andare Anche a scalare In questo caso La scalo un po' Perché vedo Che è un po' piccolina Rispetto All'immagine originale La scalo Ovviamente io ragazzi Vado veloce Non faccio cose precise Ma faccio Giusto per farvi capire Come funziona E la vado a mettere Indicativamente Qui Ok Molto bene E vedete che In questo caso Ad esempio Se io vado a togliere Qui mi fa vedere Tutta l'immagine Sottostante Vado A selezionare Solamente questo Con maiuscolo E questo Vedete abbiamo Un'immagine tagliata Col gradiente E tutte e due Io ho questo Risultante In questo caso Vedete che io ho fatto In un secondo Praticamente un bellissimo Mesh Vedete Di due immagini Cioè Di questa Immagine qui Iniziale Vedete che addirittura C'era questa bimba E questa immagine qua E ho creato Questa immagine qui E noi possiamo andare Fatto questo A Cliccando su questo Livello Quello intermedio Possiamo andare a fare Ovviamente delle regolazioni E andare a migliorare La nostra foto Quindi ad esempio Posso andare A Vedete Ad aumentare Faccio uno zoom Ad aumentare ad esempio La visibilità Di questa parte In maniera tale Da fare venire fuori Un po' I dettagli Poi posso andare Qui ad esempio Su questa Prima immagine Livello soprastante E fare ad esempio Una delle tante Aumentare un po' La saturazione In maniera tale Vedete qui Faccio vedere Questa In questa Faccio di luce Questi raggi di luce Che escono E quindi Io vado ad avere Una immagine Di questo tipo Quindi ragazzi Veramente In un attimo Abbiamo applicato Ad una immagine Un gradiente Trasparente In maniera tale Ad andare a sfumare L'immagine stessa E andare a vedere A rivelare Un'altra immagine Sottostante E andare a creare In questo caso Un bellissimo mesh Chiaramente qui Andrebbe poi rifinito Magari Vedete nei dettagli Togliendo questa parte Di alberi Rendendola ovviamente Più fluida Però già Vedete così Abbiamo Vi fa capire Le potenzialità Di questa Particolare tecnica Ragazzi Spero che vi possa Essere d'aiuto Un video Semplice Veloce Ma molto Molto utile Venitemi a trovare Sul mio profilo Instagram Vero Andesco Datemi Delle nuove idee Per nuovi video Come vedete Sono sempre pronto Come è successo Anche in un video Corso Con il filtro Retinex E ringrazio ancora Le persone Che mi hanno Dato l'idea Noi ragazzi Come sempre Ci diamo appuntamento Al prossimo video Ciao Ciao E grazie a tutti E grazie a tutti